Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono sul balcone della mia stanza qui a Brusago, sul alto piano di Pinè. Questa è la mia ultima sera in questa magnifica località e ho pensato di lasciarvi con delle bellissime immagini perché qui vicino c'è un grande prato, enorme davvero, con due bellissimi cavalli, sono madre e figlio e noi abbiamo preso l'abitudine la sera di andarvi a trovare e a portare qualcosina da mangiare. Stasera abbiamo registrato proprio pochissimi secondi di immagini e ve le lascio come saluto e ricordo di questa mia vacanza breve, pochi giorni in Trentino. Un abbraccio e un sorriso a tutti e ci rivediamo a Bergamo. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao! Stasera è l'ultimo vlog del Trentino e come vedete ho degli amici speciali che con me stasera. Guardate che meraviglia! Stasera è l'ultimo vlog del Trentino e come vedete ho degli amici speciali che con me stasera.